ciao a tutti benvenuti qui all'accademia del fantacalcio sono abel alves e oggi volevo parlare del fatto che gasperini e molto probabilmente sarà il nuovo allenatore del milan sappiamo che gattuso in crisi non riesce a portare questo milan secondo me neanche tanto per colpa sua ma comunque è l'allenatore perciò le colpe vanno sempre su di loro non sta portando al milan alla champions invece gasperini con una spesa molto inferiore con una rosa che sulla carta sembrava inferiore è riuscito a portare fino adesso fino a questo momento della stagione siamo ormai la trentacinquesima in zona champions secondo me è una ottima scelta perché gasperini riesce sempre ad andare al meglio con le squadre che sono in crisi pensiamo già riportiamo anche il genoa e lavoro che aveva fatto a genoa e poi anche adesso all'atalanta perché quando ha preso l'atalanta si l'atalanta non era una squadra diciamo in zona retrocessione però finiva sempre metà classifica invece mettendo al posto giusto ilicis e comunque non arriva adesso anche di zapata è riuscito a fare un'impresa perché se l'atalanta va in champions lasciando dietro la roma e il milan sicuramente fa un'impresa ricordiamoci che hanno speso queste due squadre sui 400 milioni quindi contro l'atalanta che ha speso veramente poco sul mercato tenendosi diciamo i migliori giocatori anzi vendendo quindi facendo anche utili incredibili come gagliardini la stagione scorsa e anche conti che è andato a mira e sappiamo che proprio nel milan sta facendo poco perché è stato sempre infortunato e ha giocato pochissimo infatti un'altra volta si è infortunato e sembra che sia che abbia finito anche la stagione quindi un milan che ha bisogno di un allenatore come gasperini che non prenderà non pretenderà come conte o come altri di chissà che giocatori ma con quello che avrà sappiamo che non avrà se milan non andrà in champions giocatori incredibili ma secondo voi il milan se adesso non andrà in champions è colpa di gattuso meglio tenerlo ancora un'altra stagione o se non andrà in champions portare via finalmente un allenatore che è abituato rispetto a gattuso a stagioni diciamo difficili mi raccomando lasciate un commento qui sotto e ci vediamo al prossimo video ciao